In questi ultimi anni in Fondazione Aspi abbiamo sperimentato varie soluzioni per l'accessibilità dei videogiochi. Grazie anche alla presenza adesso sul mercato di strumenti specifici Xbox Adaptive Controller della Microsoft, della Nintendo, il Nintendo Flex Controller per la console Nintendo Switch, e infine l'ultimo arrivato da casa Sony, il Access Controller per la PlayStation 5. Questi strumenti si interfacciano con le rispettive console per videogiochi, l'Xbox o il PC nel caso dell'Adaptive Controller, la Nintendo Switch oppure la PlayStation, e ci permettono di collegare ad essi dei controller alternativi, dei pulsanti ad esempio più grandi, dei joystick di forma diversa e più magari facili da utilizzare, in modo tale da andare incontro alle esigenze di ogni singola persona. Dal team di Aspi vi auguriamo un buon Natale e un anno di giochi accessibili.